La situazione in Italia, è chiaro a tutti noi, è molto complicata. Il governo italiano ha chiesto solidarietà europea e questo è giustificato. L'Italia ha dimostrato infatti solidarietà verso i rifugiati in un modo che non si è mai visto negli ultimi anni nella storia europea. Negli ultimi anni ha fatto molto per migliorare la situazione. Rispetto a un anno fa, due anni fa, è cambiato moltissimo, la situazione è molto migliore, ma... l'Italia in questo momento affronta una situazione che richiede che tutti facciano la propria parte in Europa.